la distinzione tra rappresentazione e realtà e quindi la tendenza a scambiare la propria rappresentazione con la realtà a sostituire la realtà con la propria rappresentazione ed è interessante che appunto questo errore del togliere il reale e metterci la propria rappresentazione è come dire la versione negativa proprio del fenomeno della libertà che consiste nello staccarsi della personalità dal gruppo ed ergersi nella propria individualità quindi questo movimento positivo, questa scoperta dell'individuo e però basta poco si rovescia nella negazione del reale e la sua sostituzione con la rappresentazione cioè con la follia ecco, è interessantissimo che questa tematica tra fine settecento e ottocento diventa sempre una tematica centrale e siccome Hegel appunto, a differenza di Marx, fa esplicitamente della filosofia allora quello che è importante è appunto cogliere questa continua ambiguità cioè questa affermazione della libertà che si rovescia però nella possibilità della follia la quale follia è però un privilegio nell'uomo appunto perché è questa capacità della rappresentazione di staccarsi dal dato e costruire altri mondi e quindi immaginare altre soluzioni quindi c'è l'impossibilità di prendere il tema e chiuderlo dentro con una casella precisa vuol dire che il pensiero moderno ovviamente diventa sempre di più importante il motivo della possibilità il tema della possibilità ora, se noi facciamo caso ambiguità, contraddizione, possibilità sono tutte quante nozioni indubbiamente centralissime nel quadro culturale contemporaneo non dico moderno, però contemporaneo e quindi per esempio, e voi lo sapete bene che quando anche nel linguaggio comune si polemizza contro lo storicismo spesso succede che delle persone polemizzano contro lo storicismo intendono dire, polemiche contro quel modo di concepire la storia come qualche cosa dispiegabile nel senso che tutto ciò che accade è necessario e allora appunto lo storicismo appare un determinismo appare chiudere la possibilità della critica sembra appunto definire un destino da cui non puoi uscire e di qui invece distanza della trasgressione rispetto alla regola va bene ora quello che è interessante è che invece il tema della possibilità che è un tema che nasce estremamente in collegamento con la riflessione logica con la riflessione matematica con il fatto fondamentale della scoperta degli strumenti il canocchiale, il microscopio, quindi la possibilità della sostituzione dell'organo naturale con altri organi ma costruiti dall'uomo che amplia la possibilità di vista ma che pongono un problema però fondamentale e cioè ciò che io vedo con il canocchiale va dimostrato che sarebbe lo stesso che vedrei se il mio occhio fosse più potente perché in realtà quello che vedo è ciò che risulta da uno strumento costruito sulla base di una matematizzazione e quindi in realtà emerge questo ampliamento delle possibilità dell'uomo ma non risulta più chiaro fino a che punto questo nuovo mondo grande macroscopico-microscopio che l'uomo scopre sia qualcosa di realmente esistente o qualcosa che risulta dall'arbitraria costruzione umana e quindi appunto sempre l'ambitudine ed è interessante appunto che il tema della follia, della malattia mentale eccetera è sempre tematizzato pensate all'occhio stesso come una piccola deviazione rispetto all'uso normale per esempio una piccola deviazione all'uso normale dell'occhio una piccola deviazione all'uso normale dell'udito e voi ricordate che poi Freud quando parlerà dei lapsus distinguerà l'apsus dell'udito, della vista, del linguaggio proprio perché c'è questo motivo moderno appunto dell'ambiguità continua dello strumento e quindi della possibilità di passare dall'ordine obiettivo all'ordine della follia con un minimo dispositivo da un'altra parte è chiaro che questo è lo sfondo perché sia possibile anche ritematizzare le caratteristiche di una scienza perché evidentemente al fondo qui c'è una concezione del reale non semplicemente come il già dato infatti i nuovi strumenti possono farmi vedere altre cose possono allargare i confini, possono cambiare i punti di vista e quindi non è già sicuro, già acquisito cosa sia per esempio scienza della solità o scienza della fisica o quello che volete ma proprio l'introduzione di nuovi strumenti pone la necessità di riconsiderare i confini di una scienza per esempio i confini dell'economia politica e il cattolino scusate queste note appena accennate ovviamente hanno il senso di dire indubbiamente il discorso che Marx fa lì sulla chiede al programma di Gota è irreducibile in poche parole insomma molto semplice se non che non è affatto semplice perché c'è lo sfondo dentro cui si inserisce e poi quelle poche chiare parole hanno però un significato proprio dentro questo sfondo e questo sfondo insomma quello che ho capito perfettamente è che se se è vero, parliamo, che attraverso un microscopio o altri strumenti io riesco ad avere una possibilità di esperienza delle cose diversa rispetto all'uso degli strumenti naturali ho la possibilità anche di dare delle cose definizioni che sono diverse da quelle che apparirebbero al semplice uso degli strumenti naturali mi spiego questo è interessante perché poniamo che io dica questa è la natura del ferro del metallo io lo dico sulla base della scienza odiana degli strumenti suoi e allora quello che dico sicuramente è qualcosa di estremamente diverso da ciò che l'esperienza è interessante che la natura del metallo risulta proprio dall'uso di strumenti raffinati cioè prodotti da una teoria e l'altra parte della natura del metallo è come dire l'oggettività piena del metallo e però è curioso che questa obiettività piena io la raggiungo per via dell'astrazione e della strumentazione che l'applicazione dell'astratto cioè della teoria mi consente allora a questo punto comprendiamo perché non è facile discorrere di materialismo e di idealismo perché se uno dice la realtà della cosa è posta dal pensiero e può sembrare un folle nel senso che appunto la mia rappresentazione è la realtà ma può non essere folle se intende dire per esempio che la natura del...